3 febbraio 1957, nasce Carosello, il primo spazio televisivo dedicato alla pubblicità. In onda ogni sera alle 20.50 sul programma nazionale, allora unico canale Rai, Carosello dura all'inizio 10 minuti con 4 short della durata massima consentita di 2 minuti e 15 secondi pari a 64 metri e 25 centimetri di pellicola. Ogni spazio era venduto alle aziende a 1.500.000 lire. Tutti i più grandi attori, registi, cantanti e disegnatori lavoreranno a Carosello. Si calcola che all'apice della fama, nel 1976, Carosello giungerà a inchiodare davanti al video fino a 19 milioni di telespettatori. A qualche cinematografaro per girare.